Un momento, scusate. Un momento soltanto. Prima di iniziare vorrei chiarire una cosa, un problema. Sì, io ho un problema. Piccolo? Ma ce l'ho. È il mio nome. C'è tantissima gente che continua a chiamarmi Lauretta. Sbagliato! Io mi chiamo Lauretta con la O. Forse ho trovato una soluzione divertente a questo un piccolo problema. Maestro? Non Laura con la U, Loretta con la O, non dire con la U, ma O non A. Più chiaro di così, dimmi cosa c'è. Più semplice che mai, Loretta. Non Laura con la U, Loretta con la O, non dire con la U, ma O non A. Più chiaro di così, dimmi cosa c'è. Più semplice che mai, Loretta. Se ti chiami Anna, tu sei Anna, non ci sono dubbi Anna. O se ti chiami Lia, resti Lia, è nient'altro che una Lia. O Sandra, o Giorgia, Giovanna, Lucia. Ma se sei Loretta, tu devi dir così. Non Laura con la U, Loretta con la O, non dire con la U, ma O non A. Più chiaro di così, dimmi cosa c'è. Più semplice che mai, Loretta. E poi c'è qualcos'altro, sai, non è finito mica qui lo scherzo. Talvolta mi succede che qualcuno chiami Lauretta Poggi, o Soggi, o Gaggi, o Maggi. Ma Gogi mai, mi sembra, mi pare, non ci si azzecca mai. È Gogi con la G, non Cocci con la C, né Bucci con la B, né C, né D. È Gogi con la G, facile così, semplice da dire, Gogi. Ah, Loretta Gogi. È carino, difficilino, niente di più. Ogni Lauren, che è una Lauren, ogni Milo e un Milo, si sa. Ma se c'è chi si chiama, con un nome un po' strano, un po' bufolosa, che dispiace sentirsi chiamare così, con un nome diverso dal suo, nono, lì, va. Non Laura con la U, Loretta con la O, non dire con una U, ma O, non, A, più chiaro di così. Il Nicolatetti, semplice che mai, Loretta è Gogi con la C, né C, né Bucci con la B, né C, né D. È Gogi con la G, facile così, semplice da dire, Gogi. Loretta Gogi. È perfetto. Perfetto? Loretta? No! Loretta! Brava, 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 brava Loretta Brogi. Carino, carino, gentile. Io due ore a spiegare Loretta Gogi, perché il nome è così, colà, tu che sei dell'ambiente, lo dovevi capire, vabbè, vabbè, lasciamo perdere, comunque. Signori, questo è di solito il punto in cui Bramieri si esibisce in una serie di caratterizzazioni, di vedette, di macchiette, perfino di imitazioni. Ora dico, stasera ci sono io. Imitazioni non mi sembrano veramente il caso. Sarebbe nascostumato? Non bebare? No! Faccio fare qualcosa con me? Che dite? Ma sì, aiutiamolo sto ragazzo, dai!